La quindicesima giornata del campionato di promozione Girone B vedrà di scena il big match tra il Castel San Giorgio e la Propagani della famiglia Sorrentino. Con la sconfitta per 2-1 subita contro il San Vito Positano, vittorioso grazie alle reti del neo-bomber Cifani e Di Porzio, la squadra di Mister Amato ha interrotto la lunga serie di risultati utili consecutivi. A nulla è valso il gol del momentaneo pareggio, messo a segno da Somma che ha agganciato Criscuoli in vetta alla classifica dei bomber con 11 marcature. Il Castel San Giorgio, diretta concorrente della Propagani per il salto diretto in eccellenza, Domenica ha espugnato il San Martino di Maiori battendo il Costa da Malfi grazie ai gol di Iapicco e Capuano e ha allungato in classifica staccando di 4 punti la seconda piazza e di ben 7 punti la terza occupata proprio dalla squadra azzurra, rinforzata dall'arrivo di nuovi calciatori alla corte di Mister Amato. Il primo colpaccio della famiglia Sorrentino proviene dalla Scafatese. Si tratta del jolly Salvatore Colantuono, mancino classe 89, impiegabile sia sulla linea difensiva sia da esterno di centrocampo. L'altro acquisto di spessore della Propagani è Antonio Noto, classe 91, proveniente dal Pimonte. Così come Colantuono, anche Noto può giocare indifferentemente sia da terzino sia da esterno di centrocampo, su entrambe le fasce. Oltre a questi due calciatori d'esperienza, la squadra di Mister Amato ha completato il pacchetto under acquistando il giovane Umberto Granato, esterno di centrocampo, classe 97, proveniente dal settore giovanile della Sarnese. Contro il Castel San Giorgio, mancherà Giammetta che deve scontare l'ultima giornata di squalifica. Somme e Versiglioni, invece, fanno parte della lista dei diffidati.